Senti Gaetano, da un po' di tempo è finita la tua avventura calcistica con la Fiorentina, però il legame con Firenze rimane. Oggi presenti questa scuola calcio importante. Sì, diciamo che è un legame ormai di vita, perché l'ho detto quando giocavo con la Fiorentina, che sarei rimasto qui a prescindere dal calcio, perché ci siamo subito innamorati di questa città. Ho fatto altri investimenti in passato, non a buon fine perché non erano nel mio campo, per quanto riguarda anche la ristorazione, però il sogno da bambino era quello di aprire una scuola calcio. Ho scelto Firenze perché, scegliendo di vivere qui, ho voluto un'altra volta reinvestire su qualcosa che credo di saper fare. Ce le racconti questa scuola calcio? Ma è un sogno da bambino, perché il mio sogno è sempre stato quello di scoprire talenti, però non potendo viaggiare spesso, perché comunque gioco, ho pensato di fare una scuola calcio. A me piacciono le sfide, non è una scuola calcio normale, perché trattasi più che altro di un'accademia, perché si coinvolgeranno tante famiglie, coinvolgeremo le famiglie con i bambini, perché credo che se c'è la collaborazione giusta tra chi allena il bambino e la famiglia, credo che avendo una simbiosi del genere, credo che possa crescere più che altro il bambino come atleta. Poi il calcio, voi lo sapete meglio di me, è una statistica, ci sono tante componenti, però ho nel cuore veramente di occuparmi di questi bambini con tutto il mio cuore, con tutta la passione, scegliendo, gente, ragazzi laureati tutti all'Isef, perché credo che comunque la cosa base che manca al bambino, che tutti non hanno, è la coordinazione, quindi saper stoppare la palla, l'ABC come si suol dire. Naturalmente sei un calciatore in piena attività, hai 31 anni, la tua situazione, il tuo futuro, sei ancora di proprietà del Siena, cosa succederà? Bisogna vedere, attendiamo il 16 luglio e vediamo cosa succede, però oggi veramente voglio concentrare, perché se penso a queste cose qua al Siena mi viene già male, perché comunque è una società che sta passando dei problemi, noi speriamo, tutti noi della Rosa e tutta Siena spera di potersi salvare, perché comunque è una storia importante la città di Siena, e il calcio fa parte di questa storia, quindi spero veramente con tutto il mio cuore che possa salvarsi e possa giocare sempre a buoni livelli. Senti Gaetano, però ti devo chiedere una cosa, tu sei palermitano, un cuore attaccato alla tua terra, ti posso chiedere un giudizio sulle parole e le intercettazioni di Miccoli, che effetto ti hanno fatto da palermitano? No, ma io non giudico Miccoli e Fabrizio perché l'ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscere la partita del cuore, dico solo di non puntare il dito, di non giudicarlo, perché comunque gli errori si possono fare, io adesso non so se lui ha sbagliato o no, però io a Fabrizio lo stimo intanto come giocatore, e poi come persona non lo conosco, ognuno di noi può cadere in delle vicende brutte o belle, però l'importante è veramente che lui sia tranquillo nel risolverle, perché solo lui sa la verità, noi non possiamo saperlo. Tu hai conosciuto alla perfezione Stefan Jovetic, ne hai apprezzato le qualità quando giocavi alla Fiorentina, ti chiedo se adesso è un giocatore da Juventus secondo te? Non lo so, sicuramente è un grandissimo giocatore Stefano, io ho sempre detto che per me è uno dei più grandi talenti degli ultimi dieci anni, poi tutte le vicende inerenti a Juventus, Fiorentina, io spero che possa rimanere in Italia, veramente perché se no il calcio in Italia andrebbe un po', non dico a scemare, però è uno di quei giocatori che ti fa divertire, da tifoso del bel calcio io direi che se rimane a Firenze è un bene anche per la Fiorentina, però veramente poi le vicende non mi va di entrare in certe vicende, posso solamente dire che se rimane a Firenze farà grande la Fiorentina, se va alla Juve comunque è un valore aggiunto per la Juve. Se invece dovessi andare all'estero, visto che comunque il prezzo chiesto della Valle è abbastanza alto, lo vedi più un giocatore da calcio spagnolo o da calcio inglese? Tutte e due, perché pure Stefano anche nel calcio inglese è forte fisicamente, nel calcio spagnolo tecnicamente può fare la differenza, si può adattare in tutti e due i calci. Sempre per chiudere, sulla Fiorentina, se dovessi arrivare Mario Gomez, i tifosi viola possono davvero sognare in grande? Secondo me Firenze può sognare già in grande, perché comunque già la base dell'anno scorso era veramente forte, e in tutti i giocatori che arrivano non posso che aumentare il bagaglio tecnico e lo spessore di questa squadra, perché secondo me l'anno scorso è stata la più forte del campionato. Tu parola anche sull'Udinese, una delle tue ex squadre, secondo te il prossimo anno sarà in grado di confermarsi sui livelli dell'anno scorso, l'Udinese riesce sempre a stupire? No, ma l'Udinese a me non stupisce più, perché comunque in realtà ha sempre centrato degli obiettivi importanti, anche quest'anno la UEFA League, l'Europa League, io credo che l'Udinese come mentalità già si è standardizzata diciamo in quegli obiettivi, pur non facendo grandissimi investimenti, però come si diceva poco anzi è scopritore di talenti e quindi si è allenata da tanti anni su questo e credo che adesso i risultati stanno arrivando perché comunque da dieci anni a sta parte raggiunge sempre gli obiettivi importanti.